Quando è pieno di gente l'Euganeo diventa uno stadio che può essere una bolgia, il problema è che per tanti fattori non è mai così pieno, adesso stiamo lavorando per aprire ancora di più la capienza dell'Euganeo per la partita di domenica, vorremmo portare questa capienza agli 11.400 proprio per dare ancora più importanza al pubblico che ieri ha dimostrato di essere veramente il dodicesimo uomo in campo. A breve partiranno le prevendite per la finale d'andata dei playoff per accedere alla Serie B Padova-Palermo in programma domenica sera alle 21. La febbre dunque per la partita che può decidere una stagione sta salendo. Da Palazzo Moroni fanno sapere che si aumenterà la capienza dello stadio, nulla di fatto invece per l'apertura della rinnovata curva. La curva non sarà pronta, l'abbiamo già detto, non ci sono le condizioni per poterla aprire, non ci sono le autorizzazioni per poterle aprire e quindi sarà così. Ci prepariamo per il prossimo campionato nella speranza e nell'auspicio veramente che si possano festeggiare due cose contemporaneamente. Io sono molto fiducioso. Il gran gol di punizione di Cosimo Chiricò al 97esimo ha galvanizzato i tifosi che ora sognano la Serie B.